salve a tutti amici sono paolo fiat e oggi sono qui con un video vi voglio far vedere un attimino come un video semplicissimo dove voglio far vedere come sta procedendo che cosa ho nel invernale diciamo tra virgolette allora li ho dei cappucci che stanno andando discretamente bene cappucci li ho delle cipolle insomma che ho ripiantato che ho trovato in giro qui ho dei bellissimi cavolfiori che stanno venendo hanno avuto attacchi di cimici la cimice cosa fa la cimice va succhiare le linfa delle foglie fa seccare le foglie ovviamente quando le tre trattamenti di sapone molle di potassio si sta a eliminare le cimici e il problema è stato eliminato diciamo al 60 70 per cento quindi buono in maniera naturale poi qui ovviamente come sempre qui ho piantato il che ho piantato scusate come sempre qui ho il mio pluviometro quindi il misuratore delle precipitazioni e qui ho vangato un po il terreno mettendo un po di statico pellettato per piantare quando sarà ora per piantare l'aglio ecco l'ho vangato per ciò che c'era dell'erba dopo comunque per piantare l'aglio farò toglielo l'erba e rimuoverò il terreno della maniera semplice adesso anche un po in zona più vicinale quindi io vorrei far vedere poi quest'altro pezzo è praticamente qui ci ho messo ho fatto due gombine due aiuole le le chiamiamo in dialetto vanese però aiuole per anche una logombina poi prode ancora meglio dopo ho piantato spinaci adesso vedete che è venuto su anche l'erbità comunque gli spinaci sono belli l'erba è venuta su dopo quindi gli spinaci sono veramente belli c'è anche qualche pomodoro ovviamente che facciamo i pomodori logicamente li togliamo questi sono spinaci che un po li mangerò adesso un po li mangerò in primavera ecco quindi il terreno poi in inverno è bene che ci sia qualche cultura che lo copre o anche semplicemente qualche cover insomma è bello che stia coperto il terreno qui ho dei fagioli che ho piantato sapendo anche io che li piantavo troppo tardi ho piantati a luglio agosto e quindi sapevo anche io che li piantavo troppo tardi ma mi serviva per azotare il terreno e quindi lasciarli lavorare poi deciderò se tagliarli interrarli col motocoltiatore o con qualche attrezzatura oppure anche se banalmente così semplicemente li lascerò seccare con il terreno e poi in primavera decido cosa fare ma penso più che altro di riuscire a tagliarli o portarli via nel compost oppure interrarli perché lavoro a piantare in autunno quindi a novembre generalmente voglio piantare delle cipolle ecco qui c'ho i porri che stanno andando veramente bene stanno veramente venendo dei porri ottimi sono veramente belli questi porri qua come vi dicevo gli spinaci sono veramente belli sono dei spinaci ottimi questi qua sono è lo spinaccio gigante d'inverno per capirci e basta ecco questo è un pochettino il tutto che ho fatto ovviamente un po di materia organica che ho quindi praticamente biotriturato altre cose le butto molto volentieri sul passaggio dovrò metterlo anche la ma non tanto per una funzione che non cresca l'erba ma anche perché così poi si decompone e mi va a dare molto sostanza organica nel terreno nel prossimo coltivazioni e vi faccio vedere un altro pezzo e poi ci salutiamo eccoci va questo è un altro pezzettino di orto adesso avete tutto scuro perché ovviamente ovviamente sta piovendo e sono anche le sei e mezza di sera quindi portate pazienza qui c'è il peperoncino ovviamente non è orto invernale comunque sono dei peperoncini che stanno venendo bene li raccoglierò questo è un altro pezzo di orto invernale più brutto sicuramente però sto facendo diversi prove diversi esperimenti qui ci sono dei porri là c'è un due broccoli qui ho ancora dei porri che hanno sofferto l'acqua a me hanno sofferto l'acqua adesso che sta piovendo spero che ripartano comunque farò una concessione con sull'attico pellettato poi li farò una rincalzaturina qui ho dei finocchi dei finocchi questi qua è il broccolo tardivo broccolo bianco tardivo questi sono dei fagioli che penso che non hanno fatto niente adesso li andremo a vedere assieme ecco hanno uscito adesso ma non credo che fa non hanno fatto niente stessa stessa teoria di quegli altri mi servivano più che altro per andare ad arricchire il terreno di azoto ecco poi io quali questi ragazzi cerco di interrarli sul terreno sempre se posso l'intero sul terreno se no li portano il compost e poi qui ovviamente ovviamente qui c'è del qui c'è il finocchio che ovviamente va rincalzato ancora prossimamente comunque è delfi comunque sono dei finocchi veramente sì non sono bellissimi non sono grandissimi tutto quanto però comunque penso che rincalzandoli ancora comunque li metterò stellati copellettati e poi li rincalzo ancora penso di avere degli ottimi risultati di finocchi ecco poi qui come sempre c'ho tutti quanti i cavoli questo qua è il cavolo cappuccio poi ci ho messo il cavolo verde ci ho messo il broccolo ci ho messo tantissimi tipi di cavoli ovviamente ovviamente qui vedete ancora è anche da pulire un po dall'ereo ma questo lavoro qui lo farò principalmente quando si è rasciugato con il descespugliatore col filo sto molto vado a bassi giri e faccio una piccola pulizia così con il descespugliatore col filo vado a tagliare l'erba e poi ovviamente venendo il freddo l'erba si blocca di carecere quindi risultato ottimo direi ecco quindi i broccoli stanno crescendo stanno andando tutto quanto bene quello che la natura ci dà sempre io dico sempre così quello che la natura ci dà noi mangiamo e cerchiamo sempre di fare al meglio perché i broccoli là non hanno avuto niente se non l'ostalatico pellettato e un po' di compost che avevo in giro che l'ho buttato sul terreno così ma principalmente non ho usato niente qui dovevo metterci l'ostalatico pellettato e fare l'incalciatura adesso se piove bene un giorno poi dopo fra due tre giorni quando non piove più inizierò a inizierò ovviamente a interrare scusate inizierò a interrare l'ostalatico pellettato e fare l'incalciatura ecco semplicemente così poi l'ostalatico pellettato con l'umidità si deteriora lentamente e la pianta ha il nutrimento per mangiare poi ci passa un po' orri ovviamente che vanno mangiati in primavera per averli il top se volete avere un bel porro grosso in primavera lo mangiate è il top poi se invece volete mangiare dei porro non troppo grandi potete mangiarli anche adesso e avrete ovviamente degli ottimi porri ecco niente di così strano ecco adesso come stavo dicendo qui c'erano i peroncini niente questi qua sono di fagiolini andati a finire quindi anche questi qua andranno interrati oppure anche semplicemente sfalciati lasciate seccare il terreno poi vedrò quando e come se interrarli ecco niente per questo video velocissimo così è tutto vi faccio vedere ancora una piccola panoramica dell'orto invernale che sta qui è comunque un orto invernale semplicissimo porri, finocchi, broccoli, cavolo cappuccio, cavolo verza insomma molto semplice come penso che tutti gli orti che fate anche voi e niente insomma per questo video è tutto quanto un video molto veloce così insomma giusto per anche farvi vedere un pochettino questo anno dell'orto perché adesso in questo periodo qua i lavori sono un po' fermi se non c'è da pulire l'orto estivo quindi da stirparci le piante, da andare a eliminare le piante, da andare a toglierle quindi praticamente il lavoro sarebbe praticamente quasi un lavoro noiosissimo da riprendere quindi praticamente preferisco farvi vedere un orto diciamo un po' più, un orto bello che sta sviluppando e poi comunque arriveranno anche i video della pulizia dell'orto che andrò a stirpare sicuramente i pomodori nelle altre piante e decideremo se trinciare magari e interare nel terreno vedremo se farlo oppure se portarli nel compost anche comunque se quest'anno l'idea mia era di provare a fare una concinazione verde diciamo praticamente una concinazione fresca nell'orto quindi andare a interrare adesso che siamo intorno a ottobre quindi andare a interrare tutto intorno a ottobre e non interrare trinciarli e dopo interrarli in primavera e vedere se nella primavera prossima ci sarà, avremo una buona concinazione ovviamente l'età me lo mettiamo sempre però anche tutto scato, quindi parliamo di melanzane, pomodori, zucchine, peperoni e queste cose qua li trinceremo poi vi spiegherò come, quando e dove, perché, vi farò vedere praticamente le varie fasi di lavorazioni e trinceremo e dopo andremo a praticamente utilizzare, come si dice, andremo praticamente a quel materiale là, lo faremo seccare e poi nei mesi successivi lo interreremo nel terreno per andare a fare una concinazione ecco vedremo se funziona, ditemi anche voi cosa ne pensate, se secondo voi è meglio portarle via o tenerle là perché nelle grandi aziende agricole trinciano tutto quanto e poi interrano tutto nel terreno e devo dire la verità che problemi non ne hanno mai avuti ecco niente, da questo video è tutto, vi dico anche a voi buon orto invernale a tutti quanti voi scusate, buon orto invernale anche a tutti quanti voi e niente, ci vediamo al prossimo video da Palo Fiat è tutto, ciao a tutti amici, alla prossima